Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno, meglio buonasera, dal vostro Giocherelone, il vostro Giocherelone se ne sta andando praticamente qui in attesa, in attesa che arrivi la pappa da fare praticamente, perché stasera se ne andrà insieme alla Giocherelone al suo mitico ristorante, il ristorante locale, il ristorante del vostro locale e quindi se ne sta avviando a piedi, perché ragazzi guardate l'uccellino, gli uccellini volanti, gli uccellini veramente volanti, qui ci sono tanti tanti tanti, piccoli uccelletti, uccelletti e uccelloni, ecco guardate gli uccellini ragazzi, guardate qui, un bel campo agricolo, qui si danno molto da fare e adesso vi faccio questo interrogativo, indovinate un po', indovinate un po', che cosa, che cosa è, se sono queste piante, vediamo un pochettino se riuscite a capirlo, speriamo che di riuscire, che strane, guardate che piante particolari, guardate, molto belline, molto belline, che sa che piante sono, ma che dirvi, qui in questa bellissima zona dell'Italia doveva venire a piovere, invece non è venuta, non è venuta a piovere, qui c'è una bambina da lontano che sta saltando, pensate un pochettino, avete capito bene, si salta il bambi, il jump i bambi, va bene signore, abbiamo visto quali erano, secondo me, quelle che erano appunto le situazioni qui locali, molti di voi non hanno sicuramente compreso ancora che tipo di pianta sia quella che avete visto prima e io per il resto me ne vado a mangiare fuori insieme alla giocheri luna, avete capito bene e guardate lì c'è un signore in maglietta bianca che ovviamente sta andando forse anche lui a mangiare, la serata è veramente fantastica, si è abbassata di molto la temperatura, siamo all'inizio di agosto, l'estate più a breve finirà, situazioni climatiche molto molto quindi particolari e il vostro amico, il vostro giocheri luna se ne va a pappare perché è tempo di mettere qualcosa sotto i denti ma soprattutto in bocca, nella vostra grande bocca, come dice spesso un caro personaggio simpatico e carino che potete a volte anche andare a visitare e a visionare, mentre ovviamente ve ne andate qui in queste zone molto gradevoli della Valtellina, ebbene sì, ve l'ho detto ve l'ho detto finalmente, il Valtellinese doc, il vostro giocherellone, il vostro Valtellinese napoletano, pensate un pochettino, qui siamo incredibilmente vicino a questi alberi che ormai sapete un pochettino dove si trova quasi sempre il vostro giocherellone, è il signore qui in bianco che è praticamente, che è praticamente qui vicino nei pressi di questa incredibile zona, sentite il ruccelletto, il ruccellone, va bene signori è tempo di pappare, mi raccomando sempre alimentazione vegana, va del vostro sano movimento ogni giorno, casomai con queste fantastiche scarpe del giocherellone, perché giocherellone è sempre super ultra fitness, bodybuilder, cardio training, come lo chiamate voi, le solite cose, addirittura c'è un parco giochi o un parco games, va bene signori, buon appetito al vostro giocherellone e ovviamente a chi va a dormire, buonanotte.